oh coso guarda che dobbiamo registrare la liquia gotica e mi serve il tuo aiuto no 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 no, sono in soffero delle atti di merda perchè? perchè mi sono rotto il cazzo e sto mangiando i biscotti ascolta, le opzioni sono due o registri con me la liquia gotica o ti guardi l'intera serie di Boku 1 Pico perchè sarà mai? quindi? passiamo per l'aiuto perfetto merda 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 no ma siamo messi male qui non mi ricordo nemmeno a che punto fossimo buon anno comunque eh buon anno stronzi strada chiusa valanga minghie minghie? che cosa ha detto? ehi oh no ti attacco il raffreddore perchè l'hoverheater non è stato tradotto? non lo so Però l'unico che puoi imparare a spaccaroccia Sei tu ma non ho la voglia in colpo di darti spaccaroccia Ma che è una mossa di merda Eh sì, poi già colpo carattere non è che sia questa grande mossa No, è che stavo tornando unito per comprare i repellenti Visto che non c'ho voglia di farmi tutta la strada E non c'ho niente Porca vera Aspetta che vendo qualche strumento altamente inutile O che non userò probabilmente Adesso scopri che non ha Cazzo non ha il repellente Così impari a convincermi a fare questa merda Vai guardati poco uno picco dai Buoni biscotti Molto Gli consiglio i panni stelle Spero che almeno qua ci siano Perfetto Allora No aspetta È qui No, non è qui È qui allora No Andiamo a fare una gara a Pokémon Sì, quindi si bugga tutto Adesso dovevamo andare Ah, giusto Sarebbe un H&M Slave Mica lui Vieni qui Ovvio Tutto questo per spaccaroccia il Minimo non lo impara neanche E per due Pokémon? Che culo però E lo chiamiamo Cushy Non l'avrebbe mai detto Dov'è che sto andando? Aspetta A farare in culo Ah, sei molto simpatico Cos'è che han detto? Vuoi usare spaccaroccia? Sono 60 anni che vivo qui ma vorrei viaggiare per il mondo Mufufufufufu Muda, muda, muda Eh, le girelle Aspetta che ho visto una cosa brutta Sì, anch'io Però non te l'ho detto perché Vattene via Che mapping di merda Tra l'altro tipo Al posto delle strade ci sono i fiori, no? A caso Cos'è quel segno? Una clessidra Pensavo fosse una casa con su una gru Aspetta, è un pesce Come un pesce Ah, e Cioè, girandolo intendi Un pesce morto Io pensavo fosse la navicella di Space Invaders E tu cosa vuoi? Qui siamo tutti ninja Naruto C'è un pirata Ogni giorno faccio sempre avanti e indietro con la nave Da qui A su Bikini bottom Se solo avessi un Pokémon che sappia fare surf Allora sei tu stupido Ma sei stronzo Ma sei stronzo No Ciao, alberta Tanto che non ci si vede, è vero Da quando ci siamo visti sono migliorato tantissimo, sai? Vuoi lottare? E non mi chiede neanche Sì, no, vabbè, dai Ma perché non hai mandato dati? Che cosa? Come fa a far con te? È infatti Sto d'acciaio? Non ne ho ricordo quella mossa Dai, ma andiamo da andare Sbaccaroce Eh, che cazzo Rugito Ah, ah, yes E sono morto Bene Wow, troppo forte Tolgo niente Tolgo Vaffanculo Dai, ci riproviamo contro la troietta Ok, dai Forse la facciamo, eh Aspetta che finisce i biscotti Sì, ce la facciamo Ce la facciamo Apra Andiamo piedi Gli ha messo solo teletrasporto Wow, che genio Eccellente, non ho parole, Halp La punta è già tua Halp, sei diventato un campione Ah, tieni, ho due detector Ma uno non mi serve, lo vuoi tu? Mingha Con il detector puoi trovare strumenti nascosti E quando trova uno strumento E metterà un... Tu vai avanti e insegui il tuo sogno Vai a apra su teletrasporto Lo saprei I capelli Kawaii Yes, fuck Paco, mi fai un favore? Cosa? Cestina tutto Ah, che palle Perché avui morto questo gioco? Perché fa cagare Hai ragione Non merita di vivere Esiste Ascolta Chiudiamola qua, ti prego No Sto mangiando No Il brutto è che non ho ancora trovato Condivido esperienza Ammesso che ci sia Eh? No Guarda Eh, attiramenti Ottimo E improvvisamente Un Clefairy al 15 Applausi Non mancavano gli applausi E' tornato Così Camper di Paolo Cosa? No Hai capito E' il camper di Paolo Stavate parlando di me?